Sì, ci sono due coccodiglie, uno racco d'angolo, due piccoli serpenti, un'acquina, le ha de piastro, e dopo l'elefante non manca più nessuno, loro si vetano in giuro e lo toro. Ci sono due coccodrille, uno rango tango, due piccoli serpetti, un'acquilale, alle piastre, dopo l'elefante, non manca più nessuno, solo si mettono in giù nel donto. Grazie a tutti.